Buonasera a tutti, grazie per esservi iscritti al webinar di questa sera, l'argomento sarà sulla tassazione nel training online, è un argomento un po' insolito, anche non proprio leggero, quindi cercheremo di restare in tre quarti d'ora massimo e cercheremo soprattutto di interagire in modo tale da non rendere il tutto troppo pesante. Prima di entrare nel vivo del webinar vi leggerò il disclaimer e vi farò una breve presentazione del broker che rappresento. Allora, il disclaimer, i contenuti di questo materiale didattico sono offerti da terze parti e non da TIC 1000 e hanno carattere puramente educativo e non costituiscono nessun incentivo di investimento. Chiunque intraprende questa attività lo fa per sua spontanea decisione, assumendosene tutti i rischi, di conseguenza gli autori e TIC 1000 non si assumono nessuna responsabilità per eventuali decisioni di investimento prese dai partecipanti e degli iscritti e declina ogni responsabilità nelle limite della legge per danni di diretti o indiretti connessi a questo servizio. Le opinioni espresse dai relatori non necessariamente rispecchiano quelle di TIC 1000 a meno che non sia stato specificato. Il training di prodotti finanziari in leva comporta un altro grado di rischio e non è adatto a tutti gli investitori, le perdite possono eccedere l'investimento iniziale, assicurarsi di comprendere appieno i rischi e di curare attentamente la gestione del rischio. Passiamo a una breve presentazione del broker che rappresento TIC 1000, un broker non di lindiesche con commissione tra le più basse del settore, spread a partire da 0 pips. Forte regolamentazione, siamo regolamentati dalla FCA UK con fondi custoditi e conti segregati separati dalla società e i fondi sono assicurati fino a 50.000 sterline. Non ci sono limitazioni sui profitti, sugli expert advisor, strategie, potete utilizzare qualsiasi tipo di strategie che ritenete opportuni, compreso quelle di arbitraggio. Nessun requoto, c'è anche la possibilità di slippage positivi perché l'ordine viene eseguito al miglior prezzo di mercato, è un'esecuzione ultra rapida, una media di 0.1 secondo, garantita da oltre 10 server sparsi per il pianeta. Ci sono un'ampia gamma di strumenti come ovviamente su Forex, CFD, su indici, materie prime e abbiamo aggiunto il Bitcoin come ultimo strumento tradabile su TIC 1000. Poi ci sono altri strumenti di trading come AutoChartist gratuiti per i clienti, la VPS in sconto, il one click trading e la demo in limitata. Non ci sono costi su prelievi e depositi e c'è un interessante partnership con il programma di Introducing Broker e adesso poi parleremo anche del tema del webinar sulla fiscalità e abbiamo appunto con Marco D'Andrea una partnership dove i nostri clienti hanno uno sconto sulle tariffe applicate che poi vedremo più tardi. Questi sono i server che sono sparsi sul pianeta di TIC 1000. Questa è una comparazione delle commissioni e degli spread di TIC 1000 rispetto ad altri competitor su fonte esterna di MyFXbook dove potrete poi andare a vedere voi stessi per la maggior parte del tempo sui mercati come, diciamo, sugli orari di forte liquidità come Londra e New York, l'offerta spread e commissioni di TIC 1000 è sempre tra, diciamo, quelle più competitive nel panorama Forex. Questa è un'altra fonte esterna dove viene fatta una comparazione dei costi di trading e TIC 1000 è sul podio tra i vari broker che hanno questi costi e commissioni vantaggiose. Potete poi provare il tutto con un conto di benvenuto, un conto da 30 dollari che viene dato a chi è ancora nostro cliente e quindi potete poi andare a provare le condizioni reali con questo conto di benvenuto. La presentazione del broker è finita, io adesso tra poco lascerò la parola a Marco per parlare di fiscalità nel Forex, cercheremo di interagire, quindi io farò delle domande, se poi voi avete ovviamente delle domande da fare in chat, magari le lasciamo per gli ultimi minuti. Diciamo che abbiamo raccolto le domande più importanti, le domande che vengono fatte spesso in materia di fiscalità e quindi cercheremo di darvi un quadro completo della situazione. Marco tu mi senti giusto? Sì, sì, ti sento molto bene. Ok, allora io direi di entrare subito nel concreto e di portarti questo esempio. Allora io sono un trader privato, mi apro il mio conto su internet con un broker estero, quindi mi faccio poi le mie operazioni di training tra le vere operazioni di deposito, prelevi con carta, scritto, conto estero e arriva il momento in cui io devo dichiarare il tutto al fisco. Quanto è complicato fare questa cosa, dichiarare tutto al fisco? Che costi devo sostenere? E soprattutto a chi mi devo rivolgere? Allora, per quanto comunque la complicatezza della fattispecie in essere, sicuramente non è complicato farlo perché comunque dei casi addirittura chi se ne intende un pochettino di fiscalità o un minimo in generale può farlo anche da solo perché comunque l'agenzia delle entrate permette tramite i suoi software e anche gratuiti di spedirsi anche da solo diciamo il proprio modello unico. Ovviamente quello che consiglio sempre se comunque non si è certi, perché comunque la fiscalità cambia soprattutto in Italia diciamo all'ordine del giorno vengono fatte nuove cose in generale, infatti oggi vi parlerò anche di una novità che è uscita da poco e quindi bene o male se non si è al passo con le notizie conviene sempre affidarsi a uno specialista del settore che può essere un dottore commercialista, un previsore o comunque un CAF specializzato o comunque una persona consulente del lavoro o comunque una persona esperta in ambito fiscale e contabile. Quindi diciamo altre possibilità il trader per fare questa dichiarazione, cioè farla da sola, andare dal CAF oppure venire da te come esperto commercialista. Esatto, esatto, o da me o comunque dal consulente di fiducia in generale che il titolare del conto abbia. I costi da seste nero ovviamente sono variabili perché l'ordine, almeno l'ordine dei dottori commercialisti che è l'unico ordine che fondamentalmente è autorizzato e investito dalla carica della gestione fiscale, perché la gestione contabile bene o male è aperta un tutti, non c'è bisogno di avere una profilazione particolare, mentre per quanto riguarda la consulenza fiscale quella è riservata solo a determinate figure come appunto gli esperti contabili, dottori commercialisti, consulenti del lavoro e revisori legali. Quindi che costi devo sostenere? Questo magari lo vediamo sul finale, i costi, visto che mi ha già la tabella. Sì, brevemente non c'è un tariffario, quindi ognuno applica il suo di costo, quindi magari possiamo parlare di costi medi. A chi mi devo rivolgere, l'abbiamo appena detto, che cosa deve rilasciarmi il broker per terminare il punto 1, il broker già lo fa di suo, rilascia degli statement che vanno conservati, ovvero sono degli statini che o giornalmente o settimanalmente o mensilmente, addirittura molti broker, compreso il nostro TICMIL, rilascia anche lo statement annuale, che in teoria basterebbe anche solo quello. Quegli statini, dal momento che comunque non siamo in un'attività che c'è bisogno della partita IVA, però sono una sorta di rendicontazione mensile per la quale noi ci conviene mantenerla da parte per almeno 10 anni, al fine di evitare comunque qualsiasi contenzioso con il fisco e qualsiasi magari accertamento che possiamo subire, abbiamo comunque i nostri documenti sistemati bene nella nostra mail, lo spazio cloud o comunque anche stampati. Marco scusa, devo un attimo interromperti perché in chat mi scrivono che l'audio va e viene, è un problema solo di Daniele o mi sentite, perché io ti sento bene, quindi ci sto sentendo molto bene. Anche io lo sento fluido. Si sente bene, si sente bene, ok, no ci sento bene, quindi Daniele è probabilmente un problema con la tua linea, ok. Ok scusa Marco, puoi andare avanti. Il punto 1 è stato chiarito, quindi allora io adesso questa domanda qui sul rispetto a un conto amministrato, io l'ho messa in questo punto qui, però poi ho visto dalle slide che già c'è un esempio pratico dove noi andiamo a capire la quantificazione del risparmio, quindi la comparazione tra il conto amministrato e il dichiarativo, quindi anche questo punto magari lo vediamo nelle successive slide, per non ritornare poi sui stessi punti. E quindi poi anche sulla domanda, il punto numero 3, perché devo complicarmi la vita con il dichiarativo quando ci sono broker che danno direttamente l'amministrato, questo poi lo inseriamo sempre nel discorso, nell'esempio pratico che hai messo nelle slide. Ok. Andiamo nelle altre domande più frequenti che io ho ricevuto, che quindi ho man mano inserito nella PDF e quindi te le leggo, vediamo un po' se riusciamo a rispondere un po' a tutte queste domande. Quando devo fare la dichiarazione dei redditi? Qual è il periodo per le dichiarazioni dei redditi? Allora, solitamente il periodo di dichiarazione dei redditi è giugno e solitamente si lavora a scadenza, quindi in teoria dal 1 giugno al 30 giugno si è in tempo, poi spesso avvengono delle proroghe, però il periodo di legge è quello lì, si ha tempo fino a settembre per trasmetterla e ovviamente perché si deve affrettare chi deve versare le tasse, chi è a credito può anche attendere settembre perché non incorre solitamente in nessuna sanzione. A giugno precisiamo che, facciamo l'esempio di quest'anno, a giugno 2018 si regolarizzerà la posizione fiscale del contribuente dell'anno 2017, quindi la dichiarazione dei redditi è presentata circa 6 mesi dopo la chiusura dell'anno fiscale che va dal 1 gennaio al 31 dicembre, quindi si hanno 6 mesi di tempo, nulla vieta ovviamente di farla magari anche prima, quindi anticipare qualcosa ad aprile, maggio e poi fare la trasmissione a giugno o a settembre. L'altra domanda è che multe potrei ricevere per omessa dichiarazione? Allora, per le omesse dichiarazioni la legge qui è cambiata, come dicevo poc'anzi, non è più un atto penale, quindi è semplicemente una sanzione amministrativa che però è abbastanza salata perché sono 250 Euro di sanzione per omessa dichiarazione, specialmente se è a debito, perché se è a debito ci sono anche le sanzioni e gli interessi di mora che si aggirano a partire dal 30%, se ovviamente il ritardo è superiore ai due anni, addirittura le sanzioni vanno al 120% del dovuto, quindi non è mai consigliabile fare delle omissioni in termini di fiscalità e dichiarazioni. Ok, allora la successiva domanda in realtà è anche nelle slide successive, quindi la saltiamo per il momento. Posso avere conti amministrati dichiarativi? Se sì, come vanno dichiarati separatamente? E in questo caso come avviene la compensazione delle minusvalenze? Allora, la domanda è chiarissima, comporta fatti specie un po' diverse, facciamo un esempio molto semplice, abbiamo un conto amministrato e uno in dichiarativo, il conto in amministrato ovviamente ci penserà il broker che avrà il regime amministrato, ci pensa lui a fare la dichiarazione dei redditi. Quello per quanto il resto che è nel regime dichiarativo che può essere un conto, due conti, tre conti, quello che si ha a disposizione, si può tranquillamente compensare tra loro la minusvalenza e quelle plusvalenze, però i conti in regime amministrato invece ragionano per conto loro, quindi se avete maturato lì delle plusvalenze o delle minusvalenze non le potete compensare con gli altri conti nel regime dichiarativo, quindi l'amministrato ragiona per conto suo ed è già gestito da qualcuno. Il dichiarativo lo dovete gestire voi, quindi potete tranquillamente portare tra più conti anche di broker diversi in compensazione minusvalenze con plusvalenze, se ovviamente può capitare tranquillamente, a me personalmente pure è capitato di avere un conto magari in forte guadagno e un conto che magari c'è qualche perdita, quella perdita lì è un credito di imposta che vi potete portare in compensazione con l'eventuale debito di imposta e versare ovviamente l'eccedenza del plusvalore, altrimenti se tutti i conti sono in minusvalenza, si portano a credito per 5 anni le minusvalenze emergenti da tutti quanti i conti in dichiarativo, gli amministrati torno a ripetere, si gestiscono per conto loro, sono a gestione separata. Ok, quindi hai risposto anche alla domanda di Maria Antonietta, per chi ha solo minusvalenze minusvalenze cosa deve fare, si portano per 5 anni, giusto? Esatto, però qui ci tengo da fare una cosa, allora, questo è un consiglio spassionato che magari do, se uno dice sto facendo trading tanto per fare trading e comunque non so se comunque magari il prossimo anno partecipo ancora a questa opportunità di business, quindi magari ho quasi intenzione di chiuderlo questo conto, si può anche tranquillamente non dichiarare nulla per il semplice fatto che si è a credito e lo Stato comunque non ti coinvolgerà mai in nessun contenzioso. Però se noi invece stiamo passando un momento di drawdown del nostro conto, stiamo diciamo in sofferenza di qualche euro e stiamo avendo delle perdite momentanee che al prossimo anno invece le cose andranno bene, andremo a guadagnare, noi la dichiarazione dei redditi delle minusvalenze comunque la dobbiamo fare, perché nel momento in cui queste minusvalenze le portiamo a compensazione con le plusvalenze negli anni successivi, dobbiamo comunque comunicarle al fisco, se no tu ci si ritrova nella situazione in cui porti in detrazione delle minusvalenze degli anni precedenti che non hai dichiarato e giustamente il fisco ti viene a dire dove le hai prese queste minusvalenze e tu non me le hai dichiarate prima, quindi che cosa può succedere? Ti dice che questa compensazione non è valida, perché non l'hai comunicata prima, quindi conviene sempre farla, la dichiarazione dei redditi, anche se si ha il conto in perdita per gli obiettivi futuri. Allora se ho capito bene la differenza, se io ti faccio un esempio concreto, ho 4 conti amministrati, su 3 sono in perdita e su 1 in guadagno, io quindi siccome non posso, è detto che ognuno ragiona a modo suo, io non posso compensare le plusvalenze con le minusvalenze sui conti amministrati perché ragionano in modo indipendente, quindi io andrò a pagare la tassazione solo sulla plusvalenze in più mi impecco le minusvalenze? Esattamente, esattamente, almeno che… Mentre nel dichiarativo questo non succede. E questo non succede, esattamente, almeno che tutti questi conti sono tutti intestati allo stesso broker, allora in quel caso lì se il broker lo concede nel regime amministrato ti può tranquillamente dire ok, magari compensiamo tra loro le minusvalenze, ma è a discrezione del broker e bisogna vedere quanto ha informato sul fattore fiscale italiano e se ci accorda questa cosa, perché altrimenti… Ma che tu sappia, questa cosa qui la deve richiedere il trader o è un servizio che… No, la deve richiedere il trader perché comunque dei casi il broker estero, e ce ne sono pochissimi che danno il regime amministrato, se non erro sono 3 o 4, e questi non sono specializzati sul fisco italiano, quindi loro già di natura hanno uno strumentino automatico per la quale gli vanno direttamente a fare il calcolo sul singolo conto, poi può fare richiesta il singolo trader al broker di compensare tra loro queste cose, ma il broker volendo si può anche rifiutare di farlo. Ok, chiaro. Allora io leggo diverse domande in chat, però sto cercando di mantenere il filo in base alle domande che già abbiamo sulle slide, quindi cercheremo di rispondere un po' a tutte le domande. Allora, intanto c'è sempre qualcuno che dice che l'audio va e viene e che addirittura non si riesce a vedere allo schermo, però non so se siano… perché io ti sento bene e quindi fino adesso non ho avuto problemi… Credo che sia un problema di connessione degli utenti, esatto. Ok, allora, io direi c'è una domanda che anche ha fatto Enrico se non sbaglio in chat, se ho delle posizioni aperte se rientrano nel conteggio, così rispondiamo alla domanda che c'è anche sulla slide, le posizioni in guadagno non ancora chiuse rientrano nel conteggio? Assolutamente no. E lui mi chiede anche, devo dichiarare le perdite utili di operazioni chiuse durante l'anno fiscale o anche quelle flottanti? Allora, no, le operazioni devono essere chiuse, perché comunque la tassazione dice che la valutazione di uno strumento finanziario derivato, perché comunque un CFD è uno strumento finanziario derivato, la sua valutazione va fatta con posizione chiusa, tu non puoi fare una valutazione di uno strumento finanziario con la posizione aperta, perché comunque uno, i mercati sono imprevedibili e quindi tu non sai quella posizione, come si può andare a evolvere da qui in futuro, non lo sa nessuno. Prima cosa. Seconda cosa, è impossibile da valutare, non esiste nessun metodo finanziario per poter valutare un'operazione aperta, cioè l'operazione deve essere chiusa per legge, quindi tutte le operazioni chiuse rientrano nella dichiarazione dei redditi, quelle aperte rimangono aperte e non vengono considerate nella dichiarazione. Ok, ottimo. Io questa domanda qui in realtà non l'ho capita, perché devo fare la dichiarazione dei redditi se ho il conto all'estero? Allora, qui subentra invece l'ambito penale, perché mentre prima l'ambito penale è stato sgravato ad amministrato per l'omessa dichiarazione, per quanto riguarda invece la dichiarazione di un conto all'estero, perché devo dichiararlo? Allora, prima cosa esiste una legge italiana per la quale dice che la dichiarazione dei redditi va intestata al soggetto residente e va pagata nel luogo residente, quindi per residente si intende almeno 185 giorni all'anno. Come posso dimostrare che io sono residente per almeno 185 giorni all'anno in un posto, semplicemente con delle fatture consecutive nel tempo, oppure con delle buste paga, che comunque spesso molte persone sono dipendenti e quindi meno male avendo il lavoro in Italia c'è la busta paga e quindi tu già... Ok, ma quindi in questo caso noi stiamo facendo riferimento a chi ha un conto bancario all'estero? Sì, allora qui si fa riferimento penso a un broker con un conto anche di trading all'estero Ah, ok, quando tu fai il bonifico al broker all'estero, ok, ok, chiaro. Esatto, perché tu comunque il tuo conto è all'estero, Dick Mill ad esempio, il nostro broker, è comunque a Londra, i conti sono a Londra e quindi sono conti esteri, soprattutto Londra, la Svizzera, Malta, Cipro, le Seychelles, il Principato di Monaco, sono tutti quanti anche detti paesi, alcuni sono blacklist, altri non sono blacklist, ma sono paesi a fiscalità agevolata, ovviamente per riderci un po' su, per essere un po' fiscalità agevolata rispetto all'Italia, insomma siamo gli ultimi, quindi ce ne sono tanti altri che non sono blacklist, ma sono con fiscalità meno, diciamo, irruenta della nostra. Quindi il governo italiano ha detto che se comunque noi abbiamo un asset, quindi un qualcosa, anche quindi per asset si intende anche un conto all'estero, che noi non abbiamo dichiarato e per noi quindi viviamo in Italia perché stiamo più di 185 giorni all'anno in Italia, dobbiamo tassare quel conto con le condizioni italiane, quindi pagheremo il capital gain italiano e dovremo dichiararlo in Italia. Se facciamo questo tipo di omissione c'è il resto, quindi praticamente è penale, ci sono almeno 6 mesi, diciamo, la pena vada almeno 6 mesi di reclusione con un'ammenda molto molto pesante, quindi non consiglio assolutamente di omettere la dichiarazione di un conto all'estero in generale. Quindi ci colleghiamo alla domanda qual è la tassazione vigente in Italia e se devo dichiarare anche i conti con poche centinaia di Euro? Allora, alla seconda domanda la risposta è sì, anche un Euro va dichiarato, ci sono vari quadri del modello unico su cui vanno dichiarati sia i conti deposito, sia i conti correnti o qualsiasi linea finanziaria estera aperta e poi ci sono i quadri dove vanno indicate i plus valori o i minus valori e i quadri di riepilogo. Qual è la tassazione vigente in Italia? Beh, qui dipende, perché allora io faccio riferimento soltanto a TICMIL, quindi ai CFD che comunque vengono trattati dal broker, la fiscalità è unica ed è una tassazione del capital gain sulla plus valenza al 26% del plus valore, quindi del plus valore, quindi ricavi meno costi per intenderci. Per quanto riguarda invece le perdite, dicevo prima, se comunicate possono essere portate in detrazione per 5 anni. Ok, questa domanda qui, che legame vi è tra il trading, money management e del fisco? Ok, allora qui andiamo un po' sul tecnico perché passiamo, diciamo qui mi tolgo le vesti da consulente e indosso quelle da trader. Allora, per me, per quello che riguarda il mio parere personale, il trading, la formula magica per almeno sopravvivere nel far sopravvivere un conto trading è nel money management e soprattutto per ottenere quelli che sono quelle percentuali che magari ogni tanto sentite dire dai vari contest in generale, che si svolgono bene o male anche a livello mondiale, cioè attualmente si sta affinello di svolgere la Robinson Cup e vedete insomma trader anche famosi come ad esempio il grande Larry Williams che fece una percentuale di 11.000%, come è possibile questo? Con il money management, ovvero applicando un money management ferreo in generale, quindi applicare un money management ferreo che vuol dire? Facciamo ad esempio gestione di un conto in antimartingala con rischio percentuale all'1%, che cosa vuol dire? Che mano a mano ponendo di base che ci sia un sistema solido che comunque comporta dei periodi di run up, quindi di forte guadagno, il sistema in gestione in antimartingale che attenzione non è la gestione antimartingala che comunque solitamente si usa a sentire, è una gestione di money management molto complessa e molto comunque strutturata, praticamente nei periodi di run up permette lo sfruttamento dell'interesse composto, ovvero di andare a reinvestire nel conto trading i guadagni ottenuti, quindi quel rischio dell'1% se porto il mio conto, faccio un esempio, da 10.000 a 50.000, l'1% di 10.000 non è più lo stesso 1% di 50.000 perché il valore economico praticamente cambia perché si è incrementato, il rischio è rimasto fisso percentuale, però si è rapportato al capitale. Ovviamente se io vado ad avere un regime dichiarativo riesco a sfruttare questo interesse composto al massimo perché la dichiarazione dei redditi si fa a giugno, quindi 6 mesi dopo l'anno fiscale e quindi riesco a sfruttare addirittura per quasi un anno e mezzo perché i guadagni di gennaio li vado comunque a dichiarare a giugno dell'anno dopo, quindi riesco a godere anche di quasi 16-18 mesi comunque di beneficiare di quei soldi che in teoria dovevo versare al fisco e invece c'ero ancora in tasca io e se ho un sistema appunto solido che mi permette di sfruttare questo interesse composto, allora in quel caso lì io porterò a moltiplicare ancora di più i guadagni. Se io invece ho il regime amministrato dal broker ogni talvolta che faccio un guadagno il broker mi trattiene la percentuale e quindi godo di meno liquidità e quindi non riesco a sfruttare bene l'interesse composto o quantomeno le regole che prevedono il mio money management. Io ho parlato della gestione di antimartingala ma ce ne sono tante tante altre e poi ognuno insomma è una scelta personale. Ok, è chiaro che questo è l'esempio che hai portato. Direi di passare tra i vari aspetti del dichiarativo e l'amministrato. Tu vedi le mie slide, giusto? Giusto, giusto. Allora, cominciamo appunto con questa differenza brevemente perché a tutti sarà capitato anche quando qui in Italia avrete un semplice conto corrente che il vostro promotore vi dice allora che regime vuoi? Vuoi il regime dichiarativo o il regime amministrato? E molti sicuramente risponderanno boh, fai un po' tu, vedi quale secondo te è quello migliore? Invece in realtà in alcuni casi come in questo ad esempio del trading online vedremo come magari un regime dichiarativo potrebbe essere più favorevole rispetto al regime amministrato. Allora, cominciamo a leggere il regime amministrato, quindi quello di destra e le opportunità che ci dà. Le opportunità sono appunto dato che tutti i guadagni che abbiamo sul conto sono già netti, quindi già volendo se uno vuole fare un prelievo durante l'anno dice li prelevo tranquillamente perché tanto non ci devo pagare ulteriori tasse, non le devo andare a dichiarare ulteriormente e quindi sono libero di gestirmi bene o male i miei soldi del conto trading. Però dal momento che appunto l'intermediario finanziario provvede ad offrire il servizio da sostituto di imposta, non bisogna appunto considerare eventuali guadagni nel modello unico di pagamento, quindi se dovete fare per altri motivi il modello unico che non siano quelli del trading ma per altri tipi di attività, allora in questo caso qui non dovete dichiarare i guadagni da trading. Però ci sono anche degli aspetti che possono essere negativi, ovvero non permettere lo sfruttamento totale del capitale a disposizione del conto trading perché come vi dicevo prima guadagnate 100 ad esempio ma subito vi si trattengono il 26%, quindi 26 in questo caso di questo esempio. Non permette di godere del capitale lordo, quindi voi avete direttamente il netto, quindi avete 74 che potete disporre perché quei 26 vengono accantonati direttamente dal broker. Non permette di sfruttare al meglio l'interesse composto, come dicevo prima al discorso del money management, qualsiasi gestione del conto che vuole sfruttare l'interesse composto, col regime amministrato è molto più trattenuto. Il rischio più grande che mi avviso è che oltre a subire un danno che chiudete l'anno negativo, le tasse perché il broker vi ha trattenuto nella prima parte dell'anno dove magari il conto era andato benino, quelle comunque le versate lo stesso, quindi avrete oltre il danno di aver chiuso il negativo, la beffa di dover pagare anche le tasse maturate all'inizio dell'anno. Vediamo ora invece… Aspetta Marco perché con questo ultimo punto risponde anche alla domanda di Emanuele che aveva chiesto, faccio un esempio, se i primi mesi dell'anno ho avuto profitti ma poi l'ultimo mese ho perso tutto, tale situazione è considerata in plusvalenza e quindi debitoria di tasse dei primi mesi in profitto oppure è considerata la perdita totale del mese finale? Non so se ti è chiara la domanda. No, devi pagare le tasse di iniziali perché comunque non è che le paghi tu, le paga il broker per conto tuo perché sei nel regime amministrato, te li ha già trattenuti quei soldi, quindi li ha già accantonati, a dicembre ti liquida la situazione, ti dà praticamente il suo statino, ti dà il capital gain vezzato, quindi ti arriverà per PEC e dopo di che, oppure ha comandato insomma per via mail, quello che il mezzo che il broker intende fare e dopo di che ti verserà per tuo conto tutti quanti i soldi trattenuti. Se tu ovviamente bruci il conto o vai in forte perdita, comunque in perdita a fine anno, quelle tasse che il broker ti ha trattenuto non te le ridà indietro, le devi versare, cioè o meglio non le versi tu, le versi al broker. Ok, vediamo un po' il regime, sì, credo di sì, poi le altre domande vediamo di rispondere dopo, andiamo avanti sugli aspetti del regime dichiarativo. Perfetto, gli aspetti del regime dichiarativo, partiamo appunto da quelli positivi, quindi dalle opportunità, permette appunto lo sfruttamento totale dell'acudità presente sul conto, ovvero tutti quei mani che fate sono lordi, ma sono i vostri, quindi ne potete disporre fino a 18 mesi, come diceva appunto il punto 2, senza subire imposizioni fiscali di alcun genere. permette di sfruttare appunto l'interesse composto, che è sicuramente l'opportunità migliore che il money management dà, e poi non prevede il pagamento delle tasse se l'anno è chiuso in perdita, ovvero l'esatto opposto della domanda del nostro... Esatto, che poi lui ha chiesto in caso di regime dichiarativo come funziona, quindi Emanuele ti sta adesso risponendo Marco... Esatto, facciamo un esempio molto semplice, supponendo che tu la prima parte dell'anno l'hai chiusa benino, quindi i primi mesi sei andato benino e hai guadagnato magari, facciamo l'esempio, 1000 euro, però alla fine dell'anno chiudi con una perdita di 1500, quindi che cosa vuol dire? Che 1000 euro l'hai guadagnato, 1500 le hai persi, quindi che cosa vuol dire? che vai a compensare e tu sei in perdita di 500, quindi non dovrai versare a nessuna tassa, ovviamente ti conviene fare per il discorso che dicevamo prima, la dichiarazione dei redditi, perché quei 500 euro sono un credito di imposta che ti porti in detrazione per gli anni successivi. Vediamo ora gli aspetti negativi di questa cosa, perché ovviamente se potrebbe sembrare che il regime dichiarativo potrebbe essere un regime migliore, ci sono i suoi aspetti negativi, ovvero che bisogna considerare che tutti i guadagni sul conto sono lordi, quindi comunque starei attento a prelevare durante l'anno perché non sai mai come si evolve la situazione del conto trading e quindi comunque magari a prelevare dei soldi tieni presente sempre il fatto che vanno comunque dichiarati al fisco a fine anno, quindi bisogna tenere presente questa cosa, quindi che sono lordi. Ovviamente bisogna fare questo modello unico per la quale io ad esempio nella mia esperienza ho trovato che molte persone mi hanno contattato da diverse parti d'Italia e questo mi fa sperare che oltre a essere apprezzato, mi fa capire che è un ambito che è poco curato dai colleghi commercialisti, perché essendo il trading magari un'attività un po' di nicchia, il classico dottore commercialista magari si va a specializzare in altro e quindi fate un po' di difficoltà a trovare dei consulenti magari preparati in materia. Comunque è un'attività diciamo di nicchia, quindi non tutti i commercialisti sono esperti, io vedo dalle domande, abbiamo una marea di domande Marco quindi non so se riusciamo a rispondere a tutto, nel caso io poi vi rimando sulla chat di gruppo che vi dicevo prima, visto che ci sei anche tu e rispondiamo un po' a tutti, adesso cerchiamo un attimo di accelerare con le slide per lasciarci i 10-15 minuti per le domande, allora facciamo un esempio pratico. Ok, regime amministrato, quindi esempio della prima parte dell'anno come dicevo prima, dal 1 gennaio al 31 luglio abbiamo un profitto di 10.000 euro, utilizzato ovviamente dei numeri abbordabili che sono magari del trader medio in modo che magari vi si sente un po' più avvicina la situazione anche con i numeri, quindi senza né esagerare né in meno né in più. Ovviamente, questo è un esempio scuola che comunque potrebbe capitare come no, le tasse trattenute su questa prima parte sono di 2.600 euro perché è il 26% del profitto, ovviamente non è che ve le trattengono al 31 luglio, per ogni trade ve le scalano, quindi arriviamo ad accumulare 10.000 euro di guadagno e praticamente ci andiamo a subire questa piccola perdita fiscale di 2.600 euro che praticamente ce le trattengono. Poi succede la cosa che subiamo un po' di drawdown, quindi perdiamo un po' di soldi dal 1 agosto al 31 dicembre e subiamo una perdita di 2.000 euro. Andiamo a fare i conti della serva, quindi da 10.000 euro di profitto che avevamo accumulato, ci dobbiamo togliere 2.600 di tasse e 2.000 di perdita e quindi abbiamo un netto di 5.400 euro. Tenete a mente questa cifra. Andiamo avanti con la slide e vediamo ad esempio con il regime dichiarativo cosa succede. Stesso esempio, quindi abbiamo praticamente un profitto di 10.000 euro dal 1 gennaio al 31 luglio, non abbiamo nessuna trattenuta fiscale, quindi andiamo direttamente al periodo, alla seconda parte dell'anno, che dal 1 agosto al 31 dicembre perdiamo i famosi 2.000 euro di prima. Quindi che cosa abbiamo? Abbiamo un lordo al 31 dicembre di 8.000 euro di guadagno, quindi perché 10.000 erano stati guadagnati e 2.000 sono stati persi, quindi arriviamo a 8.000 euro. Al 30 giugno dell'anno successivo, quindi dopo il 31 dicembre andremo a finire direttamente a giugno, andiamo a versare le tasse su questi 8.000 euro di guadagno, che sono il 26% e sono il 2.080 euro. Tenete presente ovviamente sempre caso scuola, perché ne dal 1 gennaio fino al 30 giugno voi comunque ancora disponete di questi soldi, quindi magari questi 8.000 euro potrebbero essere diventati nel frattempo molti di più. Io ve lo auguro, se avete una gestione di questo genere, riuscite a sfruttare magari il momento buono, perché magari dopo un drawdown avete recuperato qualcosa e quindi potete sfruttare il maggior capitale che praticamente avete sul conto. Quindi quant'è il netto conti della serva fatti come prima? 10.000 meno 2.000 sono 8.000, 8.000 meno le tasse arriviamo a 5.920. Se ricordate prima avevamo un netto di 5.400 euro, quindi abbiamo avuto un risparmio fiscale di 500 euro e ovviamente adesso la mia domanda che pongo a voi, secondo voi... più risparmio del tempo anche no? Esatto, più risparmio del tempo, esatto. E io dico la domanda che vi pongo a voi e la pongo magari anche a te Giuseppe, secondo te un commercialista ti chiede 500 euro di consulenza per fare un modello unico? Eh credo di no, perché comunque... Esatto, e quindi veniamo a dire che comunque il regime dichiarativo in questo caso si ha giocato molto. Ovviamente è un caso scuola, perché vi dico in generale il regime magari amministrato potrebbe convenire a chi fa tante operazioni diversificate, quindi che utilizza tanti conti, che ne so, utilizza ETN, ETF, azioni, dividendi, obbligazioni, futures, mischia un po' di tutto, allora in quel caso lì il regime amministrato sicuramente conviene. Oppure chi fa poche, 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 veramente poche operazioni, ne fa 10 l'anno, magari in quel caso lì non riesce a sfruttare questo interesse composto, non riesce a sfruttare questo effetto leva sul conto e quindi magari in quel caso lì il regime amministrato sicuramente non gli cambia nulla averlo rispetto al dichiarativo, però dal momento che noi siamo tutti trader, compreso io che svolgo questo lavoro insomma da diversi anni, sono quasi al decimo anno nonostante magari la giovane età, e comunque vi posso assicurare che poche operazioni non le faccio, cioè ne faccio veramente tante, ma che vada ne faccio una, due al giorno, che se facciamo il conteggio su 250 giorni l'anno operativi, cominciano a essere magari tra le 250, 300, 500 operazioni l'anno e quindi non sono veramente poche, quindi in quel caso lì il regime dichiarativo sicuramente giova un po' di più. Ok, allora sulla prossima slide rispondiamo anche a un po' di domande, perché mi hanno chiesto, anche se già l'hai detto prima, che bisogna fare la dichiarazione di redditi anche quando si è in perdita per portarsi poi le minusvalenze, quindi praticamente hanno chiesto questo, poi anche se fallisce il broker in questo caso se bisogna fare la dichiarazione. Allora, qui rispondiamo e puoi rispondere tranquillamente anche tu a questa cosa, TICMIL ha i conti segregati, in caso di fallimento siete coperti anche fino a 50.000 euro, quindi tranquillamente in quel caso lì non mi preoccuperei tanto di dichiarare i soldi quanto di recuperare il vostro capitale fondamentalmente, ma ovviamente non siamo qui a parlare di questo, perché se io ho deciso insomma di appoggiare TICMIL in questo progetto e ci siamo piaciuti entrambi… No, ma poi al fine del broker adesso non per fare la marchetta al broker è tutto, comunque sono casi molto limiti, poi sotto regolamentazione FCA UK, anche se magari poi l'iter, perché è successo comunque anche con il fatto del Franco Svizzero sicuramente vi ricorderete, sono comunque falliti dei broker anche sotto FCA UK, i clienti sono riusciti comunque a recuperare le somme anche se hanno dovuto attenere comunque diversi mesi, proprio perché la burocrazia c'è dappertutto e quindi i soldi li recuperate, ovviamente dovete operare sempre con dei broker assolutamente affidabili che rispettano tutte le regolamentazioni vigenti. Non certo andatevi a aprirvi, perché ho letto anche adesso delle domande sulle opzioni binarie su altri prodotti, mi raccomando sempre di comunque scegliere un intermediario solido, quindi con una regolamentazione solida, altrimenti come hai detto anche tu Marco, la dichiarazione dei redditi è l'ultimo dei vostri problemi. Adesso altre domande, vediamo se riesco a collegarmi sulle slide. No dai Marco vai avanti con quando fare la dichiarazione dei redditi. l'abbiamo visto prima, allora si fa sia in perdita che in guadagno per comunicare appunto le minusvalenze, per comunicare l'esistenza del nostro conto trading e per comunque beneficiare appunto di questi 5 anni di credito di imposta della minusvalenza. Quando si è in guadagno stesso discorso per comunque comunicare l'esistenza del conto, per comunicare le plusvalenze e per versarle, ovviamente vanno versate con il modello F24 che è il passo successivo alla dichiarazione dei redditi. Andiamo velocemente avanti, perché fare la dichiarazione dei redditi? Sì, perché comunque abbiamo già parlato di questo, io adesso direi di lasciare spazio alle domande perché comunque lo hai già spiegato. Sì, e guarda l'unica cosa magari vi tengo a dire come noi utilizziamo spesso degli expert advisor, quindi degli strumenti automatici che entrano automaticamente a mercato, l'agenzia delle entrate fa la stessa cosa, ha dei software che quindi non vi pensate che vi controllano la dichiarazione dei redditi manualmente o con l'omino, ci sono dei software, ovvero dei computer, dei server instancabili che vi seguono, quindi qualsiasi soldi che praticamente sono giustificati con un movimento tracciato, carta di credito bonifico, passaggio su qualche prepagata in generale, sono tutti movimenti tracciati. L'agenzia delle entrate da febbraio ha accesso diretto e senza autorizzazione alla posizione sia finanziaria che fiscale del contribuente, quindi tornando anche al discorso di prima, cercherei di non fare evasione delle tasse perché comunque dei casi sono alcuni contenziosi di natura anche penale. ovviamente qui concludiamo con sapevi che, come dicevamo prima, se si possiedono più conti trading nel regime dichiarativo si può compensare tra loro le varie plusvalenze e minusvalenze anche se i conti appartengono a broker diversi, come dicevo prima, mentre se uno dei conti o tutti i conti sono nel regime amministrato, questi vengono gestiti fiscalmente ognuno indipendente dall'altro, quindi non potete andare a beneficiare di nessuno sgravio fiscale. E qui, meno male, concludo con il discorso delle slide e passo la parola a te Giuseppe. Sì, abbiamo l'altra sulle conclusioni. Diciamo che questo comunque come broker, ovviamente io rimango imparziale, però ovviamente tu puoi esprimere la tua da professionista, quindi di esperto in materia e quindi dare le tue conclusioni sulla comparazione tra i due regimi, tra il dichiarativo e l'amministrato. Scrivi nel 90% dei casi è più conveniente avere un regime dichiarativo? Sì, come dicevo prima, quel 10% l'ho lasciato proprio per alcuni casi di persone che fanno poche operazioni o utilizzano strumenti di natura molto diversificata, però oggi siamo qui per TIC1000, parliamo di Forex, di CFD in generale, quindi tutti con un capital gain al 26% e sto parlando, una platea da come vedo anche molto ampia, di trader che comunque non fanno una sola operazione ogni tanto, ne fanno tante al giorno. Quindi nell'augurio che comunque siano operazioni profittevoli, quello che come abbiamo potuto vedere prima c'è un risparmio fiscale nettamente più basso, quindi comunque si pagano molte meno tasse e fanno parte dei famosi costi impliciti del trading, ovvero di cui nessuno ne parla, nessuno si rende conto, ma in realtà ci sono e alla fine per avere pigrizia o comunque anche una mancanza di informazione perché magari o il broker non le passa o comunque non vengono passati in rete perché appunto non ci sono magari professionisti appassionati della cosa, infatti o comunque mi sono appassionato a questa cosa, non lo nego perché sono un trader, sono quasi 10 anni che faccio il trader e da qualche anno sto facendo anche la professione di dottore commercialista e di consulente fiscale. Quindi ho unito entrambe le cose per studiarmele io personalmente, poi ovviamente ora stiamo mettendo a disposizione questo mio studio, questa mia professionalità proprio perché conosco la materia dall'interno, quindi in linea generale la difficoltà è quella magari di trovare un professionista, ovviamente ad oggi siamo qui per conclamare questa partnership tra me e il broker, quindi potete fare tranquillamente affidamento anche a questa slide sia su Giuseppe che su di me, insomma per qualsiasi informazione, tipo di consulenza in generale, vi ho lasciato anche il mio cellulare di lavoro, potete contattarmi quando volete, anche magari un numero anche Whatsapp e Telegram, quindi se magari volete tranquillamente scrivere in qualsiasi momento appena posso e vi rispondo, vi ricontatto e possiamo anche comunque parlare approfonditamente della situazione di ognuno di voi in generale. Ovviamente tutto questo è nel senso è proposto da me verso Dick Mill per comunque dei casi anche darvi un forte sconto sulla cosa. Per farvi un po' l'idea sui costi, intanto vi rigiro il link della chat dove potete trovare sia me che Marco, chat di Telegram. Allora, questa è l'offerta per i clienti di Dick Mill, se puoi spiegarla tu Marco? Sì, allora fondamentalmente è un'offerta che abbiamo concordato con il broker, ben o male, io vi ho applicato qui il listino standard che è ben o male, per standard si intende quello che applico io e applicano qualche consulente amico che fondamentalmente collega, quindi in generale che si occupa di questa situazione qui, questi ben o male sono i compensi che i colleghi applicano. Vi dico che sono pochi, sono pochissimi perché dopo di che ci sono tutte società che si occupano di questa cosa e lì si parla che a un modello unico ve lo mettono almeno a 450 euro perché comunque sono abituati a gestire la fiscalità di alcuni broker assicurativi e di tante altre situazioni. Per noi piccolini, quindi per noi retail, sicuramente il listino standard è quello un po' più adeguato. Ovviamente dal momento che Etic 1000 è una realtà molto ampia e mi auguro che sarete in tanti che magari scegliete di venire presso un consulente e spero che vi abbia colpito in maniera positiva, nel caso in cui voleste essere seguiti da me avete oltre i miei riferimenti uno sconto del 50% su tutta quanta la fattispecie, quindi sia se avete da fare un modello 730, se avete da fare il modello unico, se avete da fare soltanto il calcolo delle plusvalenze o meno perché magari capisco bene che ognuno di voi ha il suo commercialista e assolutamente non voglio togliere il lavoro al vostro consulente, quindi anzi tranquillamente se lui non è in grado di, perché non conosce la materia, non è in grado di compilare i quadri relativi al trading, ci posso provvedere tranquillamente io e girarlo ovviamente via mail tutto il conteggio e la spiegazione. altrimenti se voi dite, no vabbè voglio fare tutto con te perché faccio questo e ti do tutto il resto, tranquillamente mi mandate una mail, mi ha legato i documenti e avrete lo sconto insomma sia sul modello unico che sul 730 che su comunque soltanto il conteggio insomma, in generale proprio perché c'è questa partnership che abbiamo concordato con TicMill ed è esclusiva soltanto per i clienti TicMill, ovviamente per gli altri vale l'istilo standard. Ottimo, allora io direi di passare alle domande, ne sono tantissime, circa una trentina. Ammazza, dai cerchiamo di fare il possibile. Allora, in 10 minuti ce la fai? Sì, dai, dai, dai. Allora, perché non vorrei rispondere a domande già fatte, se uno non ha gli statement giornalieri può richiederli, questo sì, rispondo io, per chi ha solo minusvalenze cosa deve fare abbiamo già risposto, su quale periodo si calcolano le perdite o i profitti da tassare? Nell'anno volare, ok. L'anno viene fatto, ci sono delle persone, no, questo abbiamo risposto. I broker non mi hanno rilasciato le certificazioni che fare, chiamare il servizio clienti è richiedere i statement, se segue una strategia tipo edging grid, in cui capita di avere per lungo tempo il capitale in profitto ma l'equity in negativo, come posso evitare di pagare le tasse su un profitto che non è realistico? Allora, innanzitutto questo... Però abbiamo parlato di operazioni chiuse, giusto? Esatto, se le operazioni sono aperte ma sono in grande profitto, non sono ancora chiuse, quindi non vanno conteggiate ai fini di plusvalenze e minusvalenze. Se tutte le operazioni che avete fatto sono chiuse e sono tutte negative, allora non dovrete versare nulla e porterete in detrazione le minusvalenze. Però lui fa l'esempio sull'aging, sai che comunque con la strategia si tende comunque a a chiudere le posizioni in profitto, lasciando correre quella in perdita. In perdita, ok, sì. Però in quel caso comunque andiamo sempre a controllare l'equity reale. Esatto, quelle delle operazioni chiuse, quindi in questo caso, che è il caso opposto che dicevo prima, se le operazioni chiuse sono tutte in guadagno e non avete nessuna operazione in perdita, dovrete pagare le tasse sulle operazioni chiuse, quindi quelle in guadagno. Se ovviamente l'anno dopo chiuderete le operazioni in perdita, allora in quel caso lì avrete il credito d'imposta. Rispondiamo quindi anche a Daniele che chiede come gestire le posizioni aperte negative. Ho risposto. Sì, Emanuele, abbiamo risposto sul dichiarativo. Allora, cosa si intende per conto estero se la banca di deposito è in Italia, ma il broker ha sede a Londra, come lo considero? Se il broker ha sede a Londra è il fatto che comunque dei casi è una normativa CONSOB, correggibili se sbaglio, per la quale c'è la segregazione del conto presso una banca italiana, ma comunque di fatto tu stai aprendo il conto con un broker estero. Quindi il tuo conto, chiamiamolo fisicamente, anche se fisicamente è un termine errato, il conto è fisicamente all'estero, è fisicamente a Londra, come il caso di Dick Mill. Non andiamo a vedere altri broker perché non sarebbe rispettoso, insomma, nei confronti... Sì, diciamo che un po' tutti i broker hanno sede a Londra, sostanzialmente i più importanti hanno sede a Londra, se non tutti, credo. E quindi è un conto l'estero a tutti gli effetti. Se ho un broker estero devo dichiarare solo quello che prelevo dei guadagni o tutti i guadagni? No, è bella domanda questa. Allora, il fisco dice, non mi interessa quanto tu prelevi, a me interessa quanto tu guadagni. Quindi il fatto che tu voglia prelevare o meno dei fondi che sono di per sé prelevabili è una scelta del contribuente, mentre è un obbligo, un dovere del contribuente dichiarare tutti i guadagni potenzialmente sul conto, quindi tutte le operazioni chiuse. Il fatto che tu non prelevi i soldi, li lasci comunque lì, li devi comunque dichiarare. Ed è anche un consiglio mio personale, perché nel momento in cui li andai a prelevare tutti quei soldi e subirai una tassazione un po' più aspra, nel senso che è sempre il 26% perché sono redditi diversi e hanno tassazione separata. Però un conto, ti faccio l'esempio, preleviamo solo 1.000 euro ma ne abbiamo guadagnati 30.000, l'anno dopo prelevo tutto. Cioè il primo anno pago le tasse su 1.000, il secondo anno pago le tasse su 30.000, ad esempio, che sono la sommatoria di due anni di guadagno. In quel caso lì mi arriva una bella botta di tasse da pagare, quindi magari continuo di spalmarli negli anni, visto che comunque c'è questa possibilità. Ok, andiamo avanti perché altrimenti non riusciamo a rispondere a tutti. Maria chiede i tuoi contatti telefonici, ce li abbiamo dati prima. Lorenzo chiede, ma se il conto di appoggio dove è verso è un IBAN con la sigla IT, ma il broker comunque assiede in UK, io comunque devo dichiararlo al fisco? E' certo. Ok. C'è un importo minimo che deve avere il conto per evitare di essere dichiarato? Questo hai risposto prima, anche un solo euro va dichiarato. Sì, vi confondete con l'IVAFE, quindi con la tassa che va versata sul conto, quello lì l'IVAFE non si paga sotto i 6.000 euro, però va comunque dichiarato. Ok. Sì, la registrazione c'è. Volevo chiedere, gli utili da opzioni binarie dove vanno dichiarati, TICMill non offre opzioni binarie, quindi possiamo saltare i costi di servizio. Magari la propondiamo in privato. Sì, comunque hanno i tuoi contatti, quindi per qualsiasi cosa poi chiedete tutto a Marco, è molto disponibile. I costi tipo servizi, eccetera, devono essere fatturati per essere detratti? E a che servizi? Non ho capito la domanda, magari poi Antonio se vuoi puoi fargliela direttamente a Marco in chat. Se un broker all'estero nell'anno precedente si è avuta solo una minusvalenza e viene chiuso si deve fare la dichiarazione? Sì, perché comunque quella minusvalenza della porti in detrazione e la puoi compensare con il conto di un altro broker che andrei ad aprire, magari, no? Sì, allora non ce la facciamo perché ci sono un'altra ventina di domande, poi magari te le giro. Ok, casomai sì, te le giri via mail e rispondo io, casomai, tranquillamente. Mi dico, allora, qualche domanda un po' che vedo che è stata fatta più volte da diversi utenti, i depositi via Skrill vanno comunque dichiarati sull'unico oppure no? Allora, certamente, perché comunque nei casi i depositi via Skrill si appoggiano comunque o una carta prepagata o comunque ha un conto corrente o una carta di credito, quindi comunque sono dei movimenti volendo tracciati, perché se chiedono un accertamento sono tracciati, quindi non pensate che siano denaro contante, quindi vanno comunque dichiarati e vanno comunque indicati sull'unico, ma non è tanto il trasferimento di denaro, tanto quanto il fatto dove sono finiti questi soldi, sono finiti sul conto trading, bene, dichiarami l'esistenza di questo conto trading e ovviamente dichiarami la movimentazione, quindi se è in guadagno o se è in perdita, perché le perdite dopo andranno a favore come credito di imposta, i guadagni invece dovranno essere dichiarati al fine di pagarci le imposte. Ok, Marco io direi di chiudere il webinar perché abbiamo sforato l'ora, mi scuso con i partecipanti perché non riusciamo a rispondere a tutte le domande, sono veramente tante, io le girerò a Marco, vedremo in base ovviamente al tempo e ad altro se Marco riuscirà a rispondere a tutti, nel caso abbiate poi domande specifiche, vi abbiamo lasciato tutti i riferimenti della chat di gruppo, i riferimenti, la mia mail, quella di Marco e anche il suo numero di cellulare. Grazie a tutti per aver partecipato a questo webinar e vi auguro una buona serata. Grazie a tutti, un saluto, grazie a te Giuseppe e a TICMIL.